Sport si è svolta in sala con falon a Palazzo del Pegaso la cerimonia per celebrare il centenario della società Pisana San Frediano Calcio 1922. Sanità presentato il nuovo calendario di Cure 2 Children dedicato al Miss Italia Toscana per raccogliere fondi a favore dell'associazione che promuove iniziative a sostegno dei bambini che soffrono e che hanno bisogno di cure. Una targa da Andrea Maggi l'affinatore dell'azienda dei Maggi Formaggi di Castiglione Fiorentino che si è distinta ai recenti World Cheese Award 2022 dove si è classificata al secondo posto. Cento anni di passione dai colori rosso-blu per la società Pisana San Frediano Calcio 1922. Una storia alla sua vissuta dalla comunità e un traguardo davvero importante, un secolo, che viene celebrato anche in consiglio regionale. La cerimonia si è svolta in sala con falone di Palazzo del Pegaso per il conferimento della targa alla società Pisana. A presenziare l'evento è stato il presidente dell'Assemblea Toscana Antonio Mazzeo e il vicepresidente Marco Casucci. Oggi è un giorno di festa perché quando si festeggiano i cento anni come la polisportiva di San Frediano a settimo si dà il senso di un impegno radicato nel tempo. Tante donne, tanti uomini si sono impegnati perché ragazze e ragazze avessero la possibilità di vivere lo sport, lo sport di base e noi abbiamo la necessità di mandare un messaggio forte con questo riconoscimento. Il messaggio è di sostenere tutti coloro i quali si impegnano per lo sport di base, sostenere le tante nostre polisportive, le tante nostre società sportive che con impegno, passione e dedizione danno risposte ai nostri territori e anche oggi dopo averne festeggiati tanti altri di centesimi compleanni siamo qui a festeggiare quello della polisportiva di San Frediano a Sera. Abbiamo intrapreso sicuramente una strada positiva che è quella di aprire questo palazzo al mondo esterno e in particolare a settori vitali proprio per la tenuta della nostra società come è lo sport. Diverse gloriose società hanno ricevuto il proprio premio per i cento anni di storia. Oggi è la volta delle San Frediano e sono molto orgoglioso di dare il mio contributo in questo senso proprio perché sono ben consapevole di quanto sia importante, ripeto, per la tenuta della nostra società per educare a valori sani e positivi i nostri giovani il mondo direttantistico, un mondo che in Toscana è l'infa. Quindi noi siamo qui per dare il nostro contributo per far sì che questa Toscana, che a volte qualcuno definisce minore, in realtà minore non lo è, è semplicemente meno conosciuta e noi come uomini e donne dell'istituzione abbiamo il dovere di diffondere una conoscenza omogenea e giusta della nostra Toscana. è una cosa che ci riempie di orgoglio, ci riempie di orgoglio perché portare avanti un'associazione di volontariato con tutti i sacrifici che le famiglie e anche tutti i nostri associati fanno è un impegno molto grave, insomma è una cosa che ci impegna molto, però lo facciamo con entusiasmo. Le prospettive sono quelle di poter proseguire nel solco che hanno lasciato i nostri predecessori. Io sono l'ultimo presidente, sono presidente dal 2006 e ho fatto un pezzo di storia di questo Sanfrediano e spero che questa storia possa proseguire anche con i personaggi nuovi che sono entrati anche in società, che sono tutti i ragazzi molto capaci, molto vogliosi di dimostrare anche queste capacità che hanno e quindi la speranza è di poter arrivare a fare i 200 anni. È stato presentato al Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso il calendario 2023 della fondazione Cure Two Children. Il calendario di quest'anno è dedicato a Miss Italia Toscana con gli scatti realizzati da Giovanni Rastrelli durante la finale dell'edizione 2022 andata in scena lo scorso settembre a Cascana Terme. Nell'occasione sono stati consegnati al presidente dell'Assemblea Legislativa e ai consiglieri regionali i calendari della fondazione che porta la cura ai bambini nei paesi emergenti attraverso la formazione e il supporto logistico ai medici e al personale sanitario del luogo per renderli autonomi nel curare i piccoli pazienti affetti da tumori e malattie del sangue. Siamo davvero felici di poter ospitare anche quest'anno la presentazione del calendario di Cure Two Children. È un modo per fare anche noi la nostra parte, per sostenere iniziative di sensibilizzazione, iniziative di volontariato, iniziative tese a sostenere chi soffre. Penso che ogni qualvolta un'associazione venga da noi e ci porti iniziative come queste noi dobbiamo aprire le porte dell'Assemblea Legislativa perché ogni iniziativa di questo genere è un fiore che noi piantiamo in un campo che dovrebbe essere quello del volontariato, del sostegno a chi soffre e ogni iniziativa di questo genere merita il plauso. A Cure Two Children un plauso doppio per il lavoro importante che porta avanti ormai da tanti anni, un lavoro davvero che rende più bello il mondo in cui viviamo. Un'iniziativa che si rinnova nel tempo, che viene confermata nel sostegno della volontà del Consiglio regionale della Toscana perché è un'iniziativa che supera i confini della Toscana, che mette i bambini al centro, che porta un messaggio di speranza in condizioni di vita di tanti bambini che magari non hanno le opportunità che i nostri hanno, quindi è un messaggio che coniuga lungimiranza, solidarietà ma anche tanta filantropia e quindi io credo che in questa dimensione ci sia tutto il sostegno e tutti i valori della regione toscana, quindi del nostro Pegaso, del Consiglio, di una voglia di rinnovarsi e di portare nel mondo un messaggio straordinario fatto da persone che dedicano poi la cosa più importante che hanno nella loro vita, che è il loro tempo, in un'attività del genere. Quindi per noi un'iniziativa che si rinnova e personalmente anche una dimensione un po' di affetto che prosegue dall'esperienza anche quando io stesso ero Presidente della Commissione Sanità e quindi mi ritrovo molto in questa iniziativa. Kurt to Children è una tradizione importante anche per il Consiglio regionale, questo legame che si rinnova, questa fondazione che porta la cura ai bimbi nei paesi emergenti, tumori, malattie del sangue. Quanto è importante la solidarietà, la presenza, la cura attiva. Dobbiamo soltanto dire grazie, noi che facciamo parte delle istituzioni, donne e uomini, a queste fondazioni che operano in modo così incisivo, così generoso, in modo così determinante, lasciatemi dire, perché veramente c'è molto da fare per il prossimo. Continuo a dirlo quasi tutti i giorni, la cosa principale che dovremmo fare noi dalle istituzioni è avere proprio la cura verso l'altro. Ecco, cerchiamo di vivere in un mondo così e fondazioni come Kurt to Children ci aiutano a farlo. Un appuntamento annuale che si svolge qui presso il Consiglio regionale anche perché la Commissione Sanità del Consiglio regionale da anni segue la nostra attività nel mondo. Come tutti sapete sono ormai oltre 16 anni che curiamo bambini in paesi poveri, in paesi emergenti e dove i nostri progetti hanno dato davvero risultati molto lusinghieri. Il calendario di quest'anno è dedicato a un progetto molto ambizioso perché lo scorso anno a giugno siamo stati in Camerun dove abbiamo fatto nascere una collaborazione con un centro pediatrico locale e ci siamo fatti carico di 100 bambini inizialmente, 100 bambini oncologici. Immaginate voi che impegno è per noi ma siamo sicuri che questo progetto rappresenterà per noi, per la Kurt to Children e per i nostri sostenitori l'apice del nostro successo perché portare l'oncologia pediatrica in Camerun dove non è garantita neanche una corretta diagnosi potete immaginare voi che quanta gratificazione abbiamo noi genitori della fondazione ma anche lo staff medico per aver portato l'oncologia pediatrica in un paese così in difficoltà come l'Africa. Ad Andrea Maggi, da tempo protagonista con l'azienda dei Maggi Formaggi nella produzione di formaggi di altissima qualità, è stata consegnata la targa dell'Assemblea Toscana per gli importanti successi internazionali conseguiti nell'attività di affinazione e produzione di formaggi, brillante testimonianza del saper far toscano, un riconoscimento dunque per valorizzare la qualità delle produzioni agroalimentari e gastronomiche della nostra terra. L'azienda dei Maggi di Castiglione Fiorentina è stata protagonista indiscussa dell'edizione 2022 della World Cheese Award, il concorso mondiale dedicato ai formaggi al quale hanno partecipato 4.434 iscritti e 900 produttori provenienti da 42 nazioni differenti. Sono davvero felice di poter essere qui insieme alla Presidente De Robertis a conferire questo riconoscimento importantissimo all'azienda dei Maggi perché ha portato nel mondo il nome della Toscana. Tradizione e innovazione si tengono insieme e davvero sapere che un'azienda toscana produce uno dei formaggi migliori al mondo ci dà il senso di quanto sia ancora più importante continuare a sostenere realtà produttive che hanno bisogno di sostegni pubblici e di vicinanza da parte delle istituzioni. Allora un grande in bocca al lupo perché la prossima volta da secondi possano essere primi. Per tutta la Toscana siamo molto orgogliosi di essere qua a premiare, a riconoscere un modo di ringraziare un toscano, un mio concittadino viene dalla terra di Arezzo, che porta il nome della Toscana in alto nel mondo, che è riuscito a reinventare l'attività di famiglia attraverso una competenza, una capacità, una sensibilità che lo rende per noi un ambasciatore nel mondo. La Toscana non è conosciuta in tutto, non solo l'Europa, ma si va al di là dell'Europa per le bellezze artistiche, storiche, il paesaggio, ma deve anche molto alle capacità del saper fare dei nostri concittadini. Questo è, credo, la chiave di lettura con il quale oggi noi, sia per il motivo per il quale siamo oggi qua, motivo per il quale oggi riconosciamo, diamo questo simbolico riconoscimento ad Andrea Maggi, perché ha saputo nel mondo portare in alto il nome della Toscana, attraverso la sua capacità, la voglia di mettersi in gioco, attraverso quelle mani e quello che gli è stato utile è anche l'esperienza di famiglia, questa dedizione, quest'amore per il lavoro. Questo è un concorso che c'è ogni anno, è itinerante, nel senso che ogni anno si svolge in un paese diverso, è appunto il World Cheese Award. È un concorso che premia varie categorie, formaggi sotto varie categorie, su 4.400 formaggi provenienti da oltre 90 paesi, con il nostro gorgonzola ad op, che non produciamo noi, ma viene prodotto ovviamente nella zona ad op, quindi in provincia di Novara. Lo abbiamo scritto e siamo arrivati secondi dopo un gruyère svizzera. Ma diciamo già il fatto che noi non siamo un caseficio, ma siamo affinatori, quindi vuol dire che non produciamo il formaggio da latte, ma ci facciamo produrre vari formaggi in varie regioni d'Italia, ovviamente dalla Toscana al pecorino, e lo affiniamo nelle nostre grotte sotterranee aggiungendo ingredienti o semplicemente prendendocene cura durante il tempo di maturazione, di stagionatura. Cerchiamo di dare importanza al tempo, che è una cosa importante, è il valore più importante che abbiamo, e cerchiamo appunto di farlo evolvere, affinare e portare a perfezione, quindi farlo maturare, farlo crescere, farlo evolvere, affinché il consumatore possa provare delle emozioni, delle sensazioni diverse che il produttore, ovviamente il prodotto di base deve essere fatto bene e che magari riusciamo a conferire sempre caratteristiche diverse.